Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video! Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video! Questo video me l'ha suggerito, come al solito, qualcuno di voi sul Google Docs E anche in questo caso, chiunque me l'abbia suggerito è riuscito o riuscita a sorprendermi Ma come al solito, andiamo con ordine È in 1991 e ci troviamo a Charlotte, nel North Carolina L'avventurenne Kim Madeline vive in città e lavora come cameriera È una ragazza estroversa, sempre allegra, solare Ha un sorriso molto dolce e sincero Ed è una ragazza molto cordiale Nasce il primo dicembre del 1970 ad Ann Arbor Nel Michigan da Sherrod Easton e Don Easton Fin da piccola va a cavallo e quando si trasferisce più a sud La sua passione non fa altro che crescere Kim adora gli animali, infatti decide di aprire un allevamento di cavalli Però sa bene che ha bisogno di soldi per realizzare il suo sogno Così inizia a lavorare in un bar di un hotel alla moda Lì conosce diverse persone e tra queste persone ce n'è una Che entrerà a far parte della sua vita Ossia Bridger Madeline Il ragazzo lavora lì come DJ quindi i due diventano amici Kim dice spesso che Bridger è un ottimo DJ Lo apprezza molto Ma ripete a tutti che sono solo amici Dopo qualche tempo, però, i due decidono di provare a frequentarsi E inevitabilmente sboccia l'amore Kim non fa altro che parlare di Bridger Iniziano quindi gradualmente a vedersi sempre più spesso Il padre di Kim però è un po' preoccupato La storia tra i due ragazze si sta facendo seria E Bridger sembra non avere troppo la testa sulle spalle Così Don decide di parlare con Kim Quest'ultima però è tutt'altro che preoccupata Sa che Bridger tiene a lei e alla loro relazione E tra l'altro sembra anche condividere con lei i progetti per il futuro Infatti Bridger lavora nel settore dell'intrattenimento Ma proviene da una famiglia di agricoltori Quindi anche lui ama la natura e ama gli animali Dopo otto mesi insieme Bridger chiede a Kim di sposarlo E la ragazza è al settimo cielo Il 17 settembre del 1994 Kim e Bridger si sposano Poi la coppia si sposta a Monroe Una piccola comunità a circa 50 km da Charlotte Monroe è una piccola città rurale e Bridger è nato lì Quindi conosce tutti E tra l'altro Kim adora quella cittadina La coppia quindi acquista un lotto di terreno e comincia ad edificare Per realizzare il sogno di Kim Per prima cosa costruiscono una stalla All'inizio i due hanno tre o quattro cavalli e una capra Sono ancora nella fase iniziale in cui tutto va organizzato Infatti i loro progetti prevedono anche la costruzione di una nuova casa Dopo aver completato l'allevamento di cavalli Kim e Bridger prendono in considerazione l'idea di mettere al mondo dei figli Ma la preoccupazione di non essere pronti E di dover risparmiare per il futuro Ritormenta Kim e Bridger sono entrambe due persone molto impegnate E finiscono spesso per discutere sui pochi soldi che hanno a disposizione Infatti Kim decide di fare un secondo lavoro per portare più soldi a casa Lavora già in una casa d'aste a Monroe durante il giorno E trova lavoro come cameriera al The Men's Club di Charlotte La clientela del locale la mette spesso in imbarazzo Ma Kim ha bisogno di quel lavoro E comunque cerca di poter gestire quella situazione Anche Bridger chiaramente cerca di guadagnare di più Quindi accetta di fare il DJ a feste o a eventi A centinaia di chilometri di distanza da casa A volte Bridger si ritrova a dover guidare una notte intera per riuscire a rincasare Kim è convinta dal canto suo che debbano solo superare le prime difficoltà Poi tutto sarebbe andato per il meglio Nella notte del 29 marzo 1997 Bridger fa il DJ ad un ballo scolastico nel South Carolina Mentre Kim è di turno al The Men's Club di Charlotte Quella sera faranno tardi entrambi Perciò rimangono d'accordo di sentirsi per telefono Ma alle 3.45 del mattino la polizia di Monroe riceve una chiamata da un automobilista Che ha notato un veicolo fermo sulla Old Charlotte Highway Un conducente infatti vede una jeep rossa con il motore acceso ferma sul ciglio della strada Il punto è che all'interno di quella jeep non c'è nessuno I detective fanno un controllo sulla targa E capiscono ben presto che l'auto appartiene a Kim Madeline Notano che il suo cellulare e il suo portafoglio sono sul sedile Manca solo la patente di guida Mentre gli agenti cercano di capire perché mai Kim sia uscita dall'auto Il suo telefono inizia a squillare È Bridger suo marito in quanto si è reso conto che Kim non è tornata a casa È per questo che la sta chiamando A rispondere al telefono di Kim ovviamente è un uomo Un detective per l'esattezza Bridger dice immediatamente Sono il marito di Kim Madeline Con chi sto parlando? L'uomo dall'altro capo del telefono risponde di essere un agente della polizia di Monroe Bridger conosce gli agenti in servizio Perché i suoi genitori conoscono addirittura il capo della polizia di Monroe Il detective quindi dice a Bridger di aver trovato l'auto di Kim Però di Kim non c'è nessuna traccia Bridger quindi risponde velocemente Arrivo subito Poi mette fine alla chiamata e raggiunge il posto in cui è stata ritrovata l'auto di Kim Quando arriva si rende conto che sono presenti diversi agenti della polizia di Monroe Quindi si allarma e corre verso i detective dicendo Sono il marito di Kim Madeline Che cosa sta succedendo? I detective cercano di calmarlo Gli chiedono quando ha visto o sentito Kim l'ultima volta Bridger sostiene di averla sentita verso le due e mezza di quella stessa notte Infatti l'uomo racconta ai detective di essere tornato a casa Di aver parlato con Kim al cellulare E di essersi addormentato mentre aspettava che tornasse Poi quando si era svegliato Lei non c'era Questo a me vuol dire che Kim È scomparsa All'alba la polizia di Monroe inizia un'estesa ricerca Nel bosco che costeggia l'Old Charlotte Highway Nel frattempo la cittadina di Monroe è sotto shock E le ricerche continuano Più tardi quel pomeriggio due persone percorrono una strada chiusa A circa 3 km dal luogo in cui è stata ritrovata l'auto I ragazzi a un certo punto notano una montagna di detriti sul ciglio della strada E sotto quei detriti sembra ci sia il corpo di una donna senza vita Così allertano immediatamente la polizia Quando i detective arrivano sul luogo del ritrovamento Sanno che non ci sarà un lieto fine per la famiglia di Kim O per la città di Monroe La ricerca della ragazza, ahimè, è finita in tragedia Dalle condizioni del corpo di Kim Non c'è dubbio che si sia trattato di un omicidio Per dare inizio alle indagini I detective devono esaminare con cura la scena del crimine E raccogliere delle possibili prove Quindi per prima cosa delimitano la scena del crimine È presente anche l'SBA Ossia lo State Bureau of Investigation Che è un'agenzia investigativa a livello statale Presente negli Stati Uniti Inoltre sulla scena c'è anche un esperto forense Il corpo di Kim viene ritrovato in mezzo a un mucchio di rifiuti edili Gli investigatori li raccolgono E poi fotografano il corpo senza vita di Kim I detective non vogliono trascurare nessuna prova Quindi raccolgono e catalogano molti di quegli oggetti Le prove vengono consegnate al laboratorio scientifico dell'SBA Nella Carolina del Nord È necessario rilevare, raccogliere, conservare e paragonare Potenziali prove di impronte digitali Di scarpe o di pneumatici Con impronte digitali Di scarpe e di pneumatici già noti Più la qualità delle prove raccolte sulla scena è alta Migliori saranno i risultati prodotti dal laboratorio La polizia trova numerose prove Ma dalle analisi non emerge nulla di utile per le indagini A questo punto i detective riflettono sul da farsi E si rendono conto che la cosa più rilevante è che quella di certo non è stata una rapina Infatti la borsa di Kim era sul sedile della macchina Inoltre la ragazza indossava ancora l'anello nuziale e dei gioielli nel momento del ritrovamento I detective avevano notato che la ragazza aveva la maglietta alzata Ma secondo il medico legale non c'era stata alcuna violenza intima Secondo il rapporto dell'autopsia Kim era stata picchiata selvaggiamente Presa calci e infine strangolata Il suo osso ioide era fratturato La colonna cervicale era fratturata La causa della morte è lo strangolamento e la frattura del racchide cervicale Inoltre sembrava che le mani di Kim fossero state legate con qualcosa Tuttavia quelle legature erano sparite Considerate le lesioni i detective arrivano ad una conclusione L'assassino era davvero molto arrabbiato con lei Ora per i detective è giunto il momento di indagare nella vita di Kim Qualsiasi persona o fatti accaduti potrebbero celare degli indizi e condurre all'assassino La domanda è Chi era così furioso da ucciderla in quel modo? I sospetti inevitabilmente cadono su Bridger Maglin Il marito della povera Kim La polizia di Monroe conosce l'uomo e la sua famiglia da molti anni Ma ovviamente non sa ciò che succede fra le mura domestiche tra... Lui è Kim Anche il matrimonio più perfetto d'altronde può nascondere dei segreti È possibile che Bridger abbia perso la testa? Durante il funerale di Kim in effetti la gente mormora Sostenendo che il colpevole è Bridger Lo ha fatto per ottenere i soldi dell'assicurazione sulla vita di Kim In un matrimonio in effetti il bisogno di soldi può causare molto stress E la polizia è il corrente che Kim e Bridger lavoravano giorno e notte La coppia non faceva altro che pensare all'allevamento di cavalli e alla casa da costruire Le circostanze però sollevano molte domande Specialmente quando una fonte fidata Più precisamente un agente di polizia di Monroe Rivela di aver visto Bridger vicino alla scena del crimine Verso le due e mezza del mattino Ora in cui l'uomo aveva detto di trovarsi a casa Questa rivelazione potrebbe portare ad un'enorme svolta nel caso Ciò significa che quella sera Bridger non solo non era in casa Ma aveva anche mentito ai detective su dove si trovava Bridger deve quindi recarsi alla stazione di polizia per essere interrogato L'uomo racconta ai detective che era tornato a casa verso le due e mezza del 29 marzo I detective però lo interrompono dicendogli che a quell'ora un agente lo aveva visto in strada Bridger a questo punto spiega ai detective che quella sera stava tornando da Minning in South Carolina E aveva parlato con Kim quando aveva finito il turno Erano circa le due e Kim stava salendo in auto per tornare a casa Bridger spiega che l'aveva chiamata intorno alle 21.15-2.20 Lui era quasi tornato a casa Kim stava percorrendo l'Old Charlotte Highway Quindi gli aveva detto che entro 20 minuti sarebbe arrivata a casa anche lei Poi Bridger si era addormentato e solo al risveglio aveva scoperto che Kim in realtà non era mai tornata a casa Così le aveva telefonato Ma i detective proprio non gli credono Infatti un agente era più che certo di aver visto Bridger sulla sua auto in città alle 2.30 Bridger però ripete che aveva attraversato quell'incrocio solo alle 4 del mattino dopo aver parlato al telefono con il detective I detective a questo punto provano a procurarsi i video della telecamera di sorveglianza dal bancomat di una banca che si trova proprio a quell'incrocio Quella telecamera aveva ripreso diverse auto che percorrevano quella strada Quindi se Bridger stava mentendo le immagini di quel video di sorveglianza lo avrebbero inchiodato L'uomo nel frattempo continua a ripetere alla polizia che stanno perdendo tempo E che l'assassino di Kim sua moglie è ancora libero Inoltre Bridger pensa addirittura di sapere chi possa essere il colpevole Infatti due uomini qualche settimana prima avevano cercato di mandare Kim fuoristrada Bridger spiega più nel dettaglio che mentre Kim stava guidando un'auto aveva cominciato a inseguirla I verbali confermano che poco tempo prima c'era stato un incidente lungo la strada dove era stata trovata l'auto di Kim Due settimane prima di essere uccisa Kim effettivamente aveva avuto un incidente ed era stata inseguita da un'auto Ma solo perché Bridger ha detto la verità su quell'avvenimento non vuol dire che sia innocente Però è anche vero che senza prove per trattenerlo gli investigatori non possono far altro che concludere l'interrogatorio e lasciarlo andare La polizia continua ad indagare sull'incidente ma non trovano molti elementi Kim peraltro non aveva neanche visto bene l'auto o il conducente I detective nel frattempo aspettano davvero con trepidazione il video della telecamera di sorveglianza Relativo alla sera in cui Kim è scomparsa Due settimane dopo il ritrovamento del corpo la polizia finalmente guarda questi benedetti video di sorveglianza E in effetti non c'è traccia del pick-up di Bridger alle due e mezza La notte in cui Kim è scomparsa Il pick-up di Bridger in realtà viene visto passare alle 4 e 10 Esattamente nell'ora in cui l'uomo ha detto di aver raggiunto i detective Sul luogo in cui è stata ritrovata l'auto di Kim Anche i tabulati telefonici confermano che Bridger dice la verità Il segnale dell'ultima chiamata tra Kim e suo marito Era stato trasmesso da un'antenna a meno di 800 metri dal punto in cui l'auto si era fermata Inoltre il segnale del cellulare di Bridger proveniva da casa sua E questo escludeva il marito dei sospettati Gli investigatori quindi si ritrovano nuovamente al punto di partenza Cercano di capire quindi cos'è successo da quando Kim è uscita dal locale in cui lavora Ossia il Demence Club a Charlotte Al momento in cui è scomparsa I detective si chiedono se al club sia successo qualcosa di rilevante Magari qualcuno l'aveva seguita fuori dal locale I detective quindi contattano alcuni colleghi di Kim e il direttore del club Ma nessuno aveva notato niente di strano o sospetto Tuttavia quando gli investigatori analizzano l'incidente di qualche settimana prima Notano un dettaglio inquietante L'incidente è avvenuto quasi nello stesso punto in cui è stata ritrovata l'auto di Kim È possibile che trovando chi ha inseguito Kim quella notte la polizia possa scoprire chi sia l'assassino? Secondo il rapporto della polizia il 15 marzo Kim aveva finito il turno alle 2 di notte Ed era tornata a casa in auto come al solito Aveva percorso la stessa strada di sempre con la quale arrivava a Monroe verso le 2 e mezza Kim aveva raggiunto un'automobile che stava procedendo più lentamente di lei I suoi fari avevano illuminato l'interno dell'abitacolo e il conducente molto probabilmente si era infastidito Perché dopo che Kim lo aveva superato lui aveva iniziato a seguirla Kim a questo punto era terrorizzata e malgrado fosse quasi arrivata a Monroe Quell'auto continuava a seguirla Kim temeva che quell'auto la seguisse fino a casa Quindi aveva cercato un'occasione per seminarla Aveva visto due auto della polizia all'autostrada E aveva immediatamente accostato con la sua auto accanto alle loro Mentre l'inseguitore aveva proseguito dritto Kim ovviamente appena aveva accostato la macchina aveva anche spiegato ai due agenti la situazione Dicendo che due persone su un'auto l'avevano inseguita e pensava che volessero mandarla fuoristrada Oppure seguirla fino a casa per poi farle del male Uno dei due agenti quindi aveva diramato una segnalazione E l'auto era stata fermata a pochi chilometri più avanti Alla fine era emerso che quei ragazzi erano convinti che fosse lei Ossia Kim a infastidirli con i fari Così la polizia aveva archiviato il caso come un malinteso Appena due settimane dopo Kim viene uccisa sulla stessa strada Ci erano in realtà quelle persone che la stavano inseguendo? Per caso quelle persone sono tornate a cercarla? I detective cercano risposte nel file dell'incidente Ma trovano solo il rapporto di un poliziotto premuroso Prima che Kim ripartisse l'agente Roger Griffin si era assicurato che stesse tranquilla Le aveva quindi assicurato che non sarebbe stato il solo a tenerla d'occhio Ma lo avrebbe fatto anche suo figlio l'agente Josh Griffin L'agente Roger Griffin quindi aveva diramato una segnalazione agli agenti del turno di notte Se anche loro l'avessero vista avrebbero dovuto assicurarsi che nessuno la stesse seguendo A seguito di questo incontro Kim nelle settimane successive si tranquillizza Perché è convinta che la polizia stia vigilando su di lei Ma allora cos'è successo? Nonostante l'occhio vigile della polizia di Monroe Gli investigatori a questo punto si danno da fare per rintracciare i due ragazzi Che hanno inseguito Kim per scoprire dove erano la sera in cui era stata uccisa Gli investigatori a questo punto si danno da fare per rintracciare i due ragazzi che avevano inseguito Kim Per scoprire dove erano la sera in cui era stata uccisa I due ragazzi però hanno un alibi di ferro per quella notte I detective a questo punto esaminano di nuovo gli indizi E si chiedono con chi altro la vittima sia entrata in contatto nelle ultime settimane È in quel momento che un detective torna su un dettaglio che continua a tormentarlo L'auto di Kim è stata trovata sul ciglio della strada Con il motore e i fari accesi Il finestrino dal lato guidatore era abbassato E l'unica cosa che mancava era la sua patente di guida Era come se Kim si fosse fermata ad un posto di blocco Quindi l'unico motivo per cui Kim aveva accostato l'auto Era perché probabilmente qualcuno le aveva detto di farlo Il punto è che non risulta che quella sera Kim sia stata fermata dalla polizia di Monroe L'unico rapporto steso quella notte riguarda un incidente stradale Che è stato segnalato dall'agente Josh Griffin Così il suo superiore gli chiede se per caso quella notte ha dovuto fare dei posti di blocco O se ha multato qualcuno Josh però sostiene che tutto era tranquillo e non ha fermato nessuno Josh conferma di sapere di Kim e dell'incidente Che la ragazza aveva avuto qualche settimana prima Gli agenti avevano montato delle ricetrasmittenti sulle loro auto E chiaramente le usavano per scambiarsi informazioni tra di loro Josh infatti sostiene di aver sentito qualcuno alla ricetrasmittente Che parlava di una bella biondina su una gip rossa Chiunque in realtà ahimè può ascoltare le comunicazioni radio della polizia Mentre gli agenti si scambiavano informazioni per proteggere Kim Qualcuno con intenzioni ben diverse potrebbe aver ascoltato di nascosto La domanda è Chi? Purtroppo alcune volte si verificano casi di finti agenti E attenzione questa cosa io non la sapevo Sono rimasta sconcertata Non ne avevo assolutamente idea Comunque che succede? In pratica una persona finge di essere un poliziotto E di solito di notte allestisce alla belle meglio un posto di blocco Per fermare le varie auto I detective ormai ne sono convinti Quello è un caso di finto agente Perché in effetti l'auto era ferma sul ciglio della strada Come se avesse accostato per un posto di blocco Quindi qualcuno fingendosi un poliziotto Aveva fatto accostare l'auto per uccidere Kim Per fortuna nella cittadina di Monroe questi non sono casi frequenti Ma vengono presi molto seriamente dalla polizia E io aggiungerei e ci mancherebbe altro Quando gli investigatori si consultano col dipartimento di polizia di Charlotte Fanno una scoperta agghiacciante La sera in cui Kim è morta ci sono stati ben due finti agenti Che hanno fermato delle auto guidate da donne sole terrorizzandole La polizia sospetta che uno dei due finti agenti sia coinvolto nell'omicidio di Kim La polizia ovviamente lavora senza sosta per scoprire chi siano questi finti agenti Poi finalmente arrivano delle novità dalla polizia di Charlotte Hanno trovato due uomini Un uomo di nome fa William Long Ed è stato arrestato il 20 marzo Quindi la notte in cui Kim è stata uccisa Lui era già dietro le sbarre E non avrebbe assolutamente potuto commettere l'omicidio Ma c'è un altro finto agente in libertà E che agisce nello stesso modo a quanto pare Si tratta di un uomo che guida un'auto scura con delle luci sul cruscotto Che accende non appena vede una signora in auto La fa accostare e puntualmente cerca di adescarla Gli investigatori a questo punto cercano anche dei testimoni Che gli aiutino ad identificare l'uomo prima che colpisca ancora Ma ahimè il finto agente a quanto pare non è affatto facile da rintracciare Nel frattempo da settimane l'esperto forense Rick Navarro Esamina senza sosta le prove Tra queste prove ci sono i vestiti di Kim L'uomo è sul punto di fare una scoperta Che in effetti supporterà la teoria del finto agente Rick Navarro esaminando la felpa di Kim sulla parte posteriore Trova un indizio Sembra proprio che si tratti dell'impronta di una scarpa Con un motivo a forma di V sul tacco Il singolare motivo sulla suola nasconde un indizio non di poco conto Quella è la suola di una classica scarpa utilizzata dalle forze dell'ordine È un modello che indossano soltanto gli agenti in uniforme E questa sì che è una scoperta clamorosa Un agente o qualcuno che ha finto di esserlo Che indossa quella scarpa Ha lasciato la traccia sulla felpa di Kim Rick Navarro lavora sodo per individuare Il modello e il numero della scarpa che corrisponde all'impronta Queste sono informazioni cruciali che potrebbero condurre i detective Dritti all'assassino L'impronta di scarpa trovata sulla felpa di Kim Madeline Coincide con quella del modello Torogood Clarinos Perché quello è l'unico tipo di scarpa che ha la suola con il motivo a forma di V Rick Navarro a questo punto scopre che a Monroe c'è solo un negozio che vende quel tipo di scarpe E tra l'altro le vende ad un unico cliente Ossia il dipartimento di polizia di Monroe Il negozio registra gli acquisti fatti dagli agenti E in quel periodo tutti i poliziotti indossano quel modello di scarpe C'è quindi solo una conclusione possibile L'assassino di Kim non è una persona che finge di essere un agente L'assassino di Kim è un agente C'è da dire però che gli agenti che indossano quel tipo di scarpa sono circa 150 Tutti quindi sono possibili sospettati A meno che Rick Navarro non riesca a restringere la lista E in effetti Rick dice agli investigatori che quella è l'impronta di una scarpa numero 42 E soltanto tre agenti calzano quel numero di scarpa Così gli investigatori stringono il cerchio su tre agenti John Young, Josh Griffin e Roger Griffin Scoprendo dove si trovavano la notte in cui Kim è stata uccisa L'agente John Young in realtà aveva risposto ad una chiamata della polizia Quindi era stato escluso Roger Griffin era l'agente che aveva accolto la segnalazione di Kim La notte in cui era stata inseguita A dirla tutta Roger aveva parecchie informazioni su Kim La ragazza gli aveva detto dove lavorava I giorni in cui passava da quella strada E anche l'orario in cui passava da quella strada Ma Roger quella sera era rimasto nella caserma dei pompieri Dove era in servizio Quindi resta solo il figlio di Roger L'agente Josh Griffin Josh aveva segnalato un incidente avvenuto non lontano dal luogo dell'omicidio Forse era lui che aveva fermato l'auto di Kim Josh era l'unico che calzava un 42 E che si trovava in quella zona Le prove contro di lui quindi non fanno che aumentare Alla fine fortunatamente un testimone si fa avanti Dicendo che stava guidando proprio dietro Kim la notte dell'omicidio E sì, Kim effettivamente era stata fermata da un agente Gli investigatori hanno avanzato molte ipotesi nel caso di omicidio di Kim Ma ora sono arrivati a una conclusione inquietante e sconvolgente Tra tutti i sospettati nessuno avrebbe anche solo osato immaginare Che l'assassino fosse in realtà qualcuno che avrebbe dovuto proteggerla A questo punto arriva la notizia che davvero la polizia sta indagando internamente su un agente Ovviamente il momento decisivo è stato quando l'attenzione è stata rivolta alle scarpe di Josh Le prove forensi sulla felpa di Kim E il fatto che Josh si trovasse sulla scena del crimine Nell'ora in cui la ragazza è stata uccisa Fanno di lui il principale suo spettato La domanda a questo punto risulta palese Josh conosceva Kim Quale motivo l'aveva spinto ad ucciderla? Qual è il movente? I suoi superiori alla fine lo convocano per un interrogatorio E chiaramente gli chiedono Josh, cosa hai fatto quella notte? Ci puoi raccontare? Josh racconta agli investigatori che la sera del 29 marzo Era di servizio al centro commerciale di Monroe Aveva staccato alle 22.30 Era salito in auto ed era tornato a casa I suoi superiori gli dicono Ma quando hai segnalato l'incidente ore più tardi Eri ancora lì nei dintorni Perché? Josh a questo punto spiega che non era affatto stanco Così aveva pensato di continuare a lavorare Per inciso non è un problema se un agente lavora oltre l'orario di servizio Ma il suo supervisore deve saperlo E in questo caso il supervisore di Josh non lo sapeva affatto Josh sostiene che era tornato a casa verso le 2.45 E aggiunge che possono anche chiedere Conferma a suo fratello Peccato che suo fratello non si fosse dimostrato affidabile Aveva detto che aveva parlato con Josh Appena era tornato a casa Poi però successivamente aveva ammesso che lui In realtà Stava dormendo Controllando i tabulati telefonici di quella notte Si scopre ben presto che Josh ha chiamato una ditta di carroattrezzi Verso le 2 I suoi superiori ovviamente gli chiedono spiegazioni Josh racconta che in effetti verso le 2 di notte Aveva chiamato una ditta di carroattrezzi In quanto aveva guidato fino al parcheggio di un ristorante Si era fermato un attimo quando un uomo gli si era avvicinato Chiedendogli di chiamare un carroattrezzi Perché la sua auto era rotta e il suo cellulare era scarico Mancavano ancora 45 minuti prima che Kim passasse da quella strada Le falle nella storia di Josh diciamolo diventano sempre più grandi Nessuno può confermare dove si trovava esattamente quando è stato commesso il crimine Josh è chiaramente il principale sospettato E temono anche che sia il colpevole Quindi decidono di sospenderlo Il giorno dopo la scientifica esamina l'autopattuglia di Josh Che è pulitissima E questa cosa è davvero molto molto strana Infatti Josh era noto per avere una delle macchine più sporche del dipartimento Almeno a quanto dice l'ex capo della polizia Bobby Hulk Dopo la perquisizione della macchina I detective effettuano una perquisizione anche a casa di Josh Con un mandato E in effetti le sue scarpe da lavoro non si trovano proprio da nessuna parte Josh spiega di averle buttate via perché erano rotte Una coincidenza a dir poco incredibile oserei dire Ovviamente queste due prove si sommano agli altri indizi che andavano contro Josh Tra l'impronta di scarpa, le menzogne, l'autoripulita e l'assenza di un alibi Le prove contro Josh in pratica sono schiaccianti Non avevano un'unica grande prova inconfutabile contro di lui Ma ce n'erano molti in relazione tra loro Così erano giunti alla conclusione che l'assassino non poteva essere altro che lui Il 30 marzo del 1997 l'agente di polizia di Monroe, Josh Griffin, viene arrestato con l'accusa di omicidio di primo grado e rapimento Mentre Josh sostiene la sua innocenza a processo, l'accusa, espone le prove schiaccianti contro di lui Man mano che i pezzi del puzzle vengono messi insieme Finalmente diventa più o meno chiaro quello che è successo a Kim Dopo essere stata inseguita da quell'auto Come già vi ho detto Kim aveva detto all'agente Roger Griffin In quali giorni e a quale ora di solito percorreva quella strada Poi l'informazione era stata diramata anche a suo figlio Josh Griffin Gli investigatori a questo punto apprendono da altre donne che trovano il coraggio di farsi avanti Che Josh Griffin aveva l'abitudine di fermare le donne sole in auto senza un valido motivo Se non provarci con loro E per di più quello che alla rice trasmittente aveva fatto commenti su Kim Era lui Aveva detto esattamente queste parole Quella biondina è il tipo con cui passerei volentieri la notte Potrei fermarla Ora gli agenti che lavoravano con lui avrebbero dovuto assolutamente segnalare il suo comportamento Ecco perché alcuni di loro hanno ricevuto un richiamo E posso dirvi una cosa? Posso essere onesta? Credo che il richiamo sia troppo poco Anche loro avrebbero dovuto essere sospesi Ciao ciao la polizia non la vedete più Perché non ci si può comportare così E non può neanche esserci un'omertà di tal tipo Verso un collega che si comporta in questi modi abominevoli È chiaro che Josh non aveva l'autorizzazione del dipartimento di polizia per rimanere lì L'unico motivo per cui era in quel punto alle due di notte Era perché stava aspettando Kim Lui la stava aspettando Josh quindi cosa aveva fatto? Aveva fermato Kim E le aveva chiesto se poteva sottoporla ad un alcol test Convincendola a scendere dal veicolo Successivamente aveva provato a farle delle avance Ma quando Kim si era fatta forza e si era opposta alle sue molestie Perché di questo si tratta? Molestie? Lui l'aveva ammanettata e spinta nella sua auto Non poteva arrestarla perché Kim non aveva fatto nulla di male Ma allo stesso tempo non poteva lasciarla andare Perché lei lo avrebbe denunciato in tempo zero Giustamente Gli investigatori quindi credevano che Josh avesse guidato Con Kim a bordo fino a una strada chiusa A tre chilometri più avanti E che Kim fosse riuscita a scendere dall'auto E a fuggire Ma considerate le numerose ferite che aveva riportato Era probabile che Josh l'avesse raggiunta E che l'avesse colpita alla testa facendola cadere Aveva poi messo la sua scarpa sul retro del suo collo Tirandole un pestone E alla fine l'aveva strangolata utilizzando la sua torcia Infatti i risultati dell'autopsia mostravano che Kim Era stata colpita alla testa con un oggetto appuntito E che era stata strangolata Infine Josh gli aveva dato un altro pestone sulla schiena Lasciando questa volta l'impronta della sua scarpa sulla felpa di Kim La triste verità è che Kim non ha avuto via di scampo Obiettivamente è morta perché ha rispettato la legge È morta perché ha chiesto aiuto Mi fa così tristezza pensare a questa ragazza Che si era affidata al 100% alle forze dell'ordine Per poi essere uccisa da un uomo Un agente che avrebbe dovuto proteggerla Come già vi ho detto Josh a processo si dichiara innocente Ma il 27 febbraio del 1998 Viene ritenuto colpevole del rapimento e dell'omicidio di primo grado Di Kim Medlin E viene condannato all'ergastolo senza condizionale Sebbene il verdetto abbia dato un po' di pace alla famiglia di Kim Nessuno potrà riportare indietro quella ragazza solare Strappata alla vita troppo presto da un agente di polizia Che si è trasformato nel suo assassino A distanza di tre anni dalla condanna Josh ha confessato Ha ammesso di aver ucciso Kim Ha ammesso di averla presa a calci E ha ammesso di averla strangolata con la sua torcia Ha spiegato che di conseguenza ha rotto e lavato la sua torcia Così come le sue scarpe Prima di buttare tutto in un cassonetto Detto questo ragazzi ho finito di parlarvi di questo caso Come al solito mi ha lasciato davvero sconvolta Perché non vai mai ad immaginare che il colpevole possa essere un poliziotto Per di più molto giovane Josh aveva 23-24 anni Queste storie mi lasciano sempre tanta tanta tristezza dentro Perché se non ci si può fidare neanche delle persone che dovrebbero proteggerci Di chi dovremmo fidarci davvero È davvero bruttissimo Dall'altro lato è bruttissimo non avere fiducia in niente Però sentendo queste storie un po' di fiducia viene a mancare È anche normale Ovviamente non tutti gli agenti di polizia sono così Anzi quasi nessuno fortunatamente Però purtroppo quando queste tragedie succedono Io ci rimango molto molto male Perché ripeto per me un poliziotti è una persona che deve proteggermi Non uccidermi Non tentare di adescarmi Ma proteggermi Detto questo ragazzi Spero che questo video possa essere stato di vostro interesse Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo caso Io nel frattempo vi mando un bacione Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video Mi raccomando fate i bravi Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene Ma soprattutto prendetevi cura di voi E fate ciò che vi rende felici Basta che non facciate nulla di criminale Ciao a tutti Ciao a tutti